Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Ecco, ora non puoi tornare più, perchè non sbannerò mai più nessuno L'errore che ho fatto in passato Entra! Entra! Non altra! Entra! Ma porca madonna! E' un problema tecnico! Scusate Perché si rubano Scusate Scusate Non c'è quanto i piatti ci vesi Vabbè Non c'è Un incubo dell'ass No vai Ma non è possibile Bella Oh no 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 Oddio Ma perché madonna Sono cagato Ma che fai? Mi sono fatto male Mi sono fatto male Oh no Oddio mio Regi sto coso Mi sono fatto male Porco Dio Amore Mi sono fatto male Che bello amore Ma che bello La scena di Qualche film Shining Eh no Porco Dio Stava così Guarda dove facciamo Un telefono Oddio Non c'è un cazzo Poi mi dite che questo non è content Ma si è matto Ma si è matto Ma si è matto Ma si è matto Sulla tavola di Danilo? A post In caso mangia? Si mangia Ma Ha già con il suo avvocato? Sulla trucca No Ok Lo fai E ti senti che si indichano le case che si fa asser banco Sulla una piccola Sam Pa Oh.. Ma che invenzione Fran No Ma che incavata E La sedia cesso La sedia cesso alexa chiama una bel truione per stasera devo usare chi stai messaggiando? chi è stato quello che asserisce con me? non ho pochi bianchi sciulli, non ho pochi cocaina, coppa su tavolino, mi passo fino, ieri mattina, mamma mia, ci basta avvicina, tutta pecorina, mamma mia che bello con il catena ciao giovanni, ciao chi potè, ciao quel pazzo Ale, come stai? ciao giovanni, ciao belli, ciao amici Napoli, CSGO, Simplitani, ciao belli, ciao Giuseppe Stasi, Pago PR, TOTIC 36, Colosimo hey, ah questa è la disperazione, è nuova giuna, casa mezza non riona, ha spazio la roba buona, uoi frate che stai dicendo, stracipi la pietta, uoi ne calda in ginocchio e fammi un pochino bello, uoi senta a me, stongo mezza via, non stongo nessuna, stongo maestro goliardico, vago Comic Con, appare, frate, non tu puoi ti preoccupare, ti venga a trovare, sono più goliardi che te, si macchiappa mezza via, con un fiero a mano, scappa fuori a mezza via, perchè ti spara in capa, vieni frate lo cazzo, si mi insulta, ti sono uno cazzotto in mocca, e ti mando Montesana, capa e uoi, capa e merda, piezza e merda, spork bastardo, piezza rom, non ti puoi mettere a insultare, uo maestro, hai capito ne? piezza e merda, spork randalota a disperazione, e non vuoi giù, questa mezza via, e te ne ha ragione, e cambia, a disperazione, siamo miezzurione, e sim, a disperazione, disperazione, a disperazione anzo, banno lo proprio, facciamo direttamente, banno lo proprio, banno lo proprio banno lo proprio banno lo proprio banno lo proprio vabbè commenti del cazzo eh perchè devi dare soldi alla ragazza ma questo è tutto strunzo tutto strunzo chissà sti commentini fuori luogo ah ma non ha detto questo, e cosa ha detto? stavo nei B&B, io piangevo che volevo ritornare a Napoli invece si, ma sono un copo disco e dicevi, no, tu devi stare luogo, devi stare luogo e sto luogo eccetera eccetera, e basta e da la io sto cresciuto tanto ma perchè l'allontanamento da Napoli per me è stata una cosa troppo blu ma non fate fare un discorso serio porco dio comunque stavo dicendo mi è servito andare a Milano sì quello sì però poi sotto la Napoli ragazzi non serve a niente non serve a nulla grazie ragazzi come si chiama il più grande produttore di autoveicoli cinesi? cam yong ching guarda quanto è stupido ha 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 io ma quello tutto c'è ha 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 già è vero a me interessa solo spaventarti grazie a te no ma io l'Alexa la mettevo la mattina quando tu stai lavorando madonna mia no però non mi fai scherzo mi hanno detto a me mi fai rumino poco ciao 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 perché in poche parole io metto Alexa dalle 8 di mattina quando tu ti sveglierai no? perché questo fa casino perché con la vicina non si deve la ricordavo diversa anch'io Sinceramente Sinceramente La ricordavo diversa anch'io Senza giacca e cravanto Quella la devi fare tutta però Devi avere il rispetto di quella canzone Era un ragazzino di 16 anni che mi aveva rapito Ma perché stai a fare tutto questo? E' la vita che me lo permette E' la vita che me lo permette Ma sono a russa da favorissima Ma donato Entra Entra Quando sei arrivato Ti stavo sborrando Quando hai occhi più belli del mondo Quante stelle ci cantano intorno Se mi porti a scopare Labbra rossa capocchia viola Questa sera te lo metto in gola Hai risolto un bel problema So arrivato così Ma mi dispiace amore mio Ganga 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 Hai c'è arrivato Per tutto parto Ganga 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 c'è poco se di questa stanza che negozia di 10 no 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 mai aspetta che molti metto la cassa ti chiamo i suoni ma spiriti di dicelo tu cosa ha detto ai leggi fai come con un messaggio da scritto non è mettita a mettere in mezzo alla vita mia ma non c'è su questo vissi cassa la cassa amore chi è sto cazzo mi immaginavo fa freddo il tronzone fa freddo giuseppe dice che il maestro è un toro il maestro è un toro infatti ho detto che non c'è sempre male alla patata no ma questa è la verità allora io non so questa è scostumata davanti alla madre di queste cose senza ritegno senza educazione sono queste cose è scostumato amore vieni qua ma se ne è scappate ma scusami è una bambina che sta facendo il calcio del panellato ma che sta facendo oddio oddio ma che cazzo porco oddio ho fatto visto gli ho clippate ha creato un colpa a mezzo la rete ma c'è il camion ma c'è il camion è la prima volta che ho fatto questo ma che se ci fornare daquilo a prendo il corpo no 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 faccio il vento la mezzo sono cinquecento